Il segnale importante è che la nostra provincia, la nostra federazione ha visto riconosciuto appunto il dato politico che ha confermato la grande forza, la grande crescita di Fratelli d'Italia. Il premio ad Alessia Savo è anche un premio ma soprattutto un impegno per il territorio. Abbiamo subito in questi anni il malgoverno delle sinistre, era una delle criticità che abbiamo sottoposto al giudizio degli elettori. Adesso ci aspetta la stagione del governo. Alessia Savo viene accompagnata e verrà affiancata dal altro ottimo risultato che è quello ottenuto da Daniele Maura che è presente nelle commissioni più importanti del Consiglio regionale del Lazio. Per cui siamo contenti e siamo soddisfatti di come è stata gestita questa fase politica. Di certo sappiamo quali sono i problemi, di fatto sappiamo quali sono le grandi criticità della sanità della nostra provincia. Siamo sicuri appunto che sia indispensabile un cambio di lotta e sono molto fiducioso perché penso che abbiamo le persone giuste al posto giusto finalmente. Lo stesso Presidente Rocca decide di in qualche modo occuparsi direttamente di questo e credo che anche sia una indicazione ben chiara su quello che sarà per i cittadini il nuovo corso. La gestione della sanità deve partire da non ripetere gli errori del passato. Ci siamo lamentati, abbiamo toccato con mano alcune questioni che sono state in qualche modo viste dai cittadini come delle vere e proprie emergenze. Alcune cose sono andate malissimo, la gestione clientelare per esempio dei posti di lavoro, i medici premiati non certo per competenza ma per appartenenza. Tutto questo porta ad uno spreco anche del denaro pubblico. Io credo che invece ripartire dal merito anche sulla sanità, ripartire dall'analisi dei costi ma anche mettere al centro le risorse umane, le tante risorse umane che abbiamo nella nostra sanità sociala senza il pregiudizio e senza quel meccanismo che la sinistra ha in qualche modo elevato a sistema, può migliorare tantissimo la qualità e il prodotto che daremo ai cittadini. Sì, sicuramente sono in tante commissioni che possono interessare questo territorio, da quella all'industria, al commercio, artigianato fino a quella dell'ambiente. Tante problematiche che ho riscontrato nella campagna elettorale di esigenze dei cittadini della provincia di Frosinone. Sicuramente cercherò di fare il mio meglio partendo dalla problematica ambientale che era quella della Valle del Sacco e già la settimana dopo Pasqua convocherò il commissario della Valle del Sacco per vedere come è stata gestita in questi anni quella che tra virgolette è stata chiamata bonifica ma che in realtà non è stato fatto assolutamente nulla per vedere tutti i vincoli che sono stati posti per la Valle del Sacco che hanno fatto allontanare tante industrie e vedere appunto di metterci le mani per rilanciare questo territorio anche sotto l'aspetto sia ambientale che industriale. Come la Catalan ci sono state tante aziende che sono rimaste impelagate nei meandri della burocrazia, nei tanti vincoli che doveva rilasciare la regione e il ministero e che però a distanza di anni non avendo poi avuto risposta hanno fatto sì che tante aziende appunto hanno abbandonato questo territorio creando ulteriore disoccupazione. Credo che a distanza ormai di tanti anni dal momento in cui fu instaurata, fu posto appunto i vincoli della Valle del Sacco bisognerà rivederli con analisi partendo da analisi appropiate per vedere appunto nel 2023 a che punto siamo e nel caso ridurre anche tutti questi vincoli burocratici che poi non permettono agli imprenditori di venirsi ad insediare il nostro territorio. Un impegno gravoso ma una grande attenzione alla provincia di Frosinone e a una politica che Fratelli d'Italia e la Giunta Rocca vuole fare e vorremmo essere nell'ottica anche di un centralismo di quella che è l'attività che parte dalle province. Direi che potremmo parlare di politica di prossimità e alla politica di prossimità ovviamente andiamo a rappresentare con la politica di prossimità a tutti quei settori come appunto la sanità che è assolutamente un argomento di carattere universale perché riguarda la salute e la vita di tutti noi cercheremo in questo modo di essere incisivi dei grandi programmatori insieme al presidente Rocca che ha dettato tempi, priorità di cui saremo alleati, sostenitori e assolutamente pronti a mettere in campo ogni strategia che vada a ridurre quelle che sono le liste d'attesa che vada a migliorare la rete ospedaliera e ambulatoriale affinché la sanità diventi sempre un punto principale ma in questo caso d'orgoglio. Non riguarda in particolare la provincia di Frosinone purtroppo è un dramma che riguarda l'intera regione Lazio con il presidente Rocca, lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo oggi dovrà essere importante l'azione su quello che è il processo di digitalizzazione che servirà anche per mettere in rete quei posti letto che spesso non sono a disposizione sarà fondamentale rinnovare tutto quello che è l'aspetto dell'agenda Recup per permettere una maggiore offerta in termini di visite specialistiche ed esami diagnostici e questa è la cosa che andremo a fare nei prossimi giorni con un'azione assolutamente importante che riporti fiducia, soprattutto salute e vita. Io sono abituata a progettare prima di agire perché io credo che soprattutto in un ambito che sia la salute la progettazione e il porci degli obiettivi che ho detto in anticipo sono la prossimità anche nella sanità non potrà che riguardare anche il nord della provincia ma in un'ottica di progettazione della rete ospedaliera della regione Lazio ci dovrà essere un grande impegno, grandi capacità e grandi qualità tecniche anche per pianificare quella che deve essere l'offerta rivolta all'utenza di tutte le età e di ogni genere. Noi non siamo la provincia, non siamo il recinto dove gli altri devono venire a saccheggiare noi non siamo quel territorio che deve essere in qualche modo inquadrato o considerato soltanto come il posto dove vengono a scaricare i rifiuti per esempio le grandi aziende che pagano le tasse non in questa provincia, non siamo il territorio che deve apparire come quello dove la classe politica è talmente attaccata al piccolo particolare che non governa nulla ma subisce tutto io credo appunto che bisogna sedersi a tavolino e rappresentarla questa terra per quello che vale per la incredibile forza che abbiamo di questi 91 comuni che hanno delle specificità uniche e che sono state sempre sottaciute secondo me anche da un punto di vista culturale proprio perché questo vassallaggio che si portano dietro alcuni personaggi è il retaggio di una sottocultura che assolutamente non ci appartiene. Allora innanzitutto capire che cosa è successo, capire perché diciamo così sono dieci anni che sentiamo parlare di questo e a nulla sono valse per esempio delle interrogazioni parlamentari che ho fatto al vecchio ministro Costa e che hanno lasciato il tempo che trovo, noi ci troviamo in una situazione paradossale in base alla quale da una parte le aziende non riescono a sviluppare le proprie azioni operative sul territorio perché il SIN ti vincola a dei lacci e laccioli che sono pazzeschi dal punto di vista della legislazione che è stata fatta dall'altra non siamo riusciti a dare delle risposte serie per quanto riguarda la bonifica di tutte queste terre per cui sono riusciti a fare due cose negative, tutte le cose negative, né la bonifica né lo sviluppo del territorio io credo che bisogna invece veramente invertire la rotta, sono molto preoccupato perché alcuni comuni sono attraversati dal fiume, alcune aziende attendono risposte, io credo che ci siamo veramente imbrigliati in questa regione che rischia di essere, e anche qui io aggiungo la questione delle province, con forza, almeno io e anche il mio partito ma all'interno del mio partito sto cercando di rimettere al centro la riforma delle province la riforma delle province con l'elezione diretta ci dà una libertà e ci dà un'autorevolezza, una forza nel poter governare questi processi che è fondamentale perché delegare ci ha portati a questo, la delega all'ambiente, la delega a delegare alla regione i nostri problemi in una regione romano centrica è uno dei grandi temi, io non capisco perché la sinistra su questo non ci vuole accompagnare in questa battaglia, forse perché loro prendono i voti nella grande città oggi la grande sfida è provincia contro metropoli, sono due realtà completamente diverse e noi non possiamo stare al passo, al gioco per struttura, per come è fatto il territorio, per le diverse problematiche noi non possiamo essere trattati, perché siamo un territorio completamente diverso, non possiamo essere trattati come un territorio metropolitano il territorio metropolitano ha una sua velocità, noi ne abbiamo un'altra, loro hanno una criticità, noi ne abbiamo un'altra e questo chiaramente incide tantissimo, è chiaro che la bacchetta magica nessuno di noi ce l'ha, ci mancherebbe altro noi non abbiamo bacchette magiche, però sull'analisi dei problemi ci sono profonde differenze con quelli che hanno gestito fino adesso la cosa pubblica a livello regionale grazie grazie grazie